La mostra San Vito è andata molto bene, siamo stati contenti per il buon afflusso di persone nei due fine settimana in cui è stata presente la mostra. Ci sono stati i laboratori per bambini, a cui c'è stato anche qua un buon numero di bambini che ha partecipato. Ci sono state anche guide di altri paesi dove è stata presente la mostra, Settimo e Chievo, che sono venuti a collaborare con noi nella presentazione alle persone. E poi c'è stata anche la presenza delle autorità che hanno apprezzato proprio il valore di queste mostre culturali che portiamo in giro.